Carrozzieri, un momento difficile per il Giulianova, fra vecchie e nuove pendenze, insomma il futuro è in bilico, la squadra chiede di avere certezze, oggi c'è stata questa conferenza stampa a cui ha partecipato anche lei, cosa si sente di dire? Spero che questa volta sia la volta buona che la società vecchia darà le garanzie per andare avanti per questo Giulianova calcio perché se neanche mercoledì, abbiamo dato una scadenza a mercoledì che se non provvederà a pagare le vertenze vecchie, a farci aprire un conto dove noi possiamo lavorare e a dimettersi da amministratore, ex presidente Perletta, noi siamo arrivati al dunque che la squadra dovremmo restituirla a loro perché così non si può andare avanti. I giocatori giustamente vogliono chiarezza ma la chiarezza arriva da se noi abbiamo le certezze della società vecchia. I giocatori sono decisi anche a scioperare? No, oggi adesso abbiamo parlato con loro, Perletta è venuta a fare anche il discorso alla squadra, gli ha assicurato questa scadenza, quindi i giocatori oggi si stanno allenando, domenica giocheranno a Macerata e quindi sarà tutto come speriamo di iniziare l'anno buono. Qualora mercoledì non dovessero arrivare queste risposte che la vecchia proprietà ha assicurato, cosa potrebbe succedere? Niente, il presidente Esposito, come già dichiarato, consegnerà di nuovo la società a Perletta e poi vedrà lui come gestirla. Carossieri, i giocatori sono preoccupati ma lo sono soprattutto i tifosi? I tifosi sì, ma partì dal sottoscritto perché io sono cresciuto qui e quindi io ci sto mettendo la faccia come ce la sta mettendo il mister Giorgini, come Angelo Pagliaccetti, Tortorici, Tuccella, insomma abbiamo fatto una cosa di tutti i giuliesi veramente per ripartire con questo nuovo presidente che ha voglia di far tornare il calcio a Giulianova, però facendo così non si può lavorare. I tifosi lo sanno, ci stanno molto vicini e quindi anche per questo va dato un ringraziamento, stanno facendo delle cose bellissime, stanno tenendo i ragazzi sempre, li stanno supportando con il loro tifo e quindi io spero che questa cosa si risolva in settimana. Quest'anno ricorrono i 90 anni dalla nascita del Giulianova, probabilmente sarebbe stato meglio festeggiare questa ricorrenza in un modo diverso. Sì, è vero, però io sono sempre fiducioso di aspettare fino alla fine e spero che questa cosa si risolva al più presto per arrivare a salvarci in largo anticipo e per programmare e buttare giù le basi già da marzo per un campionato dignitoso per il prossimo anno.